Caffarese e Ledrense Caffarese e Ledrense Settima di questo campionato Prima categoria E con le squadre Entrare in campo Agli ordini del signor Tambosi Di Arco Riva Fisca l'abito Dall'inizio della partita Giri Lascia andare il pallone Prima occasione Per la Caffarese Buona Cesata Va via Un'altra volta Grandissima finta Saltare l'avversario E pallone Sul fondo Bravo Colò Ribaga Filippi Ballo su Filippi Espulso Filippi Niccolò No espulsione davvero in Genova Ribaga Ribaga Eh ma ha speso benissimo Questo cartellino giallo Ferrari Ribaga È andata ancora Ferrari Filippi Madonna Madonna Ribaga E qui poteva portarla avanti O calciare di prima intenzione È stato troppo altruista Cosa Ecco di fatti Gili Il tiro fuori Perlomeno dovrebbe fischiare Deve fischiare Due minuti e venti Attenzione perché la difesa è scoperta E pallone fuori Fischia l'arbitro L'inizio del secondo tempo E spinge Colò E spinge Colò di pugno Dubini Fa tirartelo Fare spinta di Colò E pallone fuori Eh stanno sprecando troppo Pallone fuori Occasione per la Caffarese Sesto minuto del secondo tempo Tiro Vadori E la rete La rete è su ribattuta del portiere Eh vantaggio decisamente meritato È stato più svelto il giocatore della Caffarese Da un paio di metri Ha messo insaccato il risultato 1-0 Dubini Cosa può fare contro tre Dubini Trovare rigore E pallone fuori E' buona No ha riuscito a salvarla Ciso Ha salvato Filippi Alessandro Sembrava già gol Pericoloso Butta fuori da vicinissimo Filippi Filippi Ha sbagliato anche questa Eh potrebbero pagare tutte le occasioni sciupate Pallone alto Da ottima posizione Pallone fuori Non era facile E la rete Il raddoppio della Caffarese Trentacinquesimo del secondo tempo 2-0 Eh la rete potrebbe aver chiuso la partita Termina la partita Giosuè E' il portiere Rigore Rigore per la Ledrense Parte Ferrari Era troppo nervoso Non è giornata Non è giornata Ed ecco il fisco dell'arbitro 44 secondi di recupero termina la partita qua, Caffaro, Caffarese 2, le grese 0